Quanti popoli, quante regioni, quanto dolore, quante speranze, il Signore mi guidò per il mondo ad annunciare la sua salvezza, la mia salvezza, ad annunciare che la Chiesa è il suo corpo, che vive in mezzo al mondo, dimostrò la sapienza e la scienza, dimostrò l'ignoranza e il timore, il mondo stretto dalla fame, una verità senza onore e confini lontani, sempre più lontani, che aspettavano ansiosi la sua parola. Una notte, una salve, una niziale, un macedone, vera dinantia a me, che mi supplicava. Passa in pace, melodia, ed aiutaci, sentivo quella voce di giorno e di notte. Un sussurro, un pianto, un canto, un grido. Buongiorno, un canto." Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.